Per un soffio la San Benedettese Laura Lardani non è riuscita nell'intento di vincere la maratona che ha concluso i campionati europei di pattinaggio a San Benedetto. Sulla linea di traguardo dopo 42.195 metri di gara la campionessa del mondo nonché campionessa europea è stata superata per pochi centesimi di secondo dalla tedesca Sabine Berzo. Una gara comunque bellissima quella condotta dalla Lardani la quale ha dimostrato anche davanti ai suoi tifosi tutte le notevoli doti. Al termine un lungo applauso ha sottolineato la prestazione offerta dall'atlete e sul podio, oltre alla tedesca e all'italiana, è salita anche l'olandese Ela De Vries classificata al terzo posto. Tra i senior maschi la vittoria è stata ottenuta dall'olandese Berga Ingmar. Il primo tra gli italiani è stato Fabio Frankoli giunto al quarto posto. Tra le junior femmine il podio è stato quasi tutto azzurro, infatti alle spalle della tedesca Katarina Rumpus si sono classificate Anna Giroldi e la san benedettese Valentina Fede, la quale si è dimostrata una delle migliori promesse del pattinaggio italiano. La vittoria azzurra è giunta nella categoria junior maschi ad opera di Matteo Melis.